E' attivo da ieri nelle quattro asle abruzzesi un nuovo servizio teso a ridurre i disagi derivanti dalle liste di attesa. Il progetto regionale si chiama SOS liste di attesa e ha l'obiettivo di facilitare il processo di accesso alla prestazione. Si tratta quindi di un canale alternativo e non sostitutivo al CUP. Sulla novità abbiamo sentito Rossano Di Luzio, direttore sanitario dell'asle di Pescara, ma il discorso vale anche per le altre aziende abruzzesi del territorio. Questo servizio serve a quelle persone che hanno difficoltà a trovare una risposta al CUP per quelle visite, la cui categoria è la categoria B e la categoria D, cioè le visite brevi a 10 giorni e D a 30 e 60 giorni, per cui queste persone che non trovano soddisfazione al CUP su queste categorie possono rivolgersi a questo numero o all'indirizzo email che è stato pubblicizzato dalle aziende sanitarie. E allora eccoli i numeri da chiamare nelle 4 asle da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Chieti 0872 70 68 35, la mail service SOS liste attesa chiocciolasl2abruzzo.it, l'Aquila 0863 49 96 52, la mail liste attesa chiocciolasl1abruzzo.it, Pescara 085 425 32 54, la mail prenotazioni.cup.chiocciolasl.pescara.it, infine teramo 0861 42 98 15, la mail cupla.chiocciolaslteramo.it. Altra cosa importante a valutare l'istanza del paziente sono operatori esperti, ancora di Luzio. E gli operatori sono operatori formati e sono i più esperti che si trovano in azienda per risolvere queste problematiche. Le liste d'attesa però rimangono? Beh, se avessimo una bacchetta magica sicuramente la prima cosa che farei è la risoluzione delle liste d'attesa. Comunque ci stiamo impegnando veramente tanto sulla risoluzione di queste liste d'attesa, anche in merito all'offerta. Nel 2023 siamo passati da 3 milioni di prestazioni a 3 milioni e mezzo di prestazioni, quindi abbiamo incrementato di circa mezzo milione di prestazioni. E devo dire che qualche risultato c'è stato. Le liste d'attesa non sono scomparse ma si sono ridotte un pochettino. Quali sono le prestazioni che soffrono di più? Sono alcune prestazioni strumentali, in particolare quelle della risonanza magnetica, le ecografie vascolari, le endoscopie gastriche e le colonoscopie. Queste sono le prestazioni dove abbiamo qualche difficoltà nella lista d'attesa.